Allora, prossimo, Stati Squat Ehi, 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 non salta nessuno Maggiano non potenza, maggiano non metà Sono da sotto Tutti, tutto tutti, pure i barissimi, tutti Anche le Cassirie Anche Andrea Vincenzo, vincenzo, vincenzo! Vincenzo, vincenzo, vincenzo! Tutti, tutti, tutti! Sì! Sì, ciao! Ciao! Questo è il Matteo Bassiccio, Matteo Bassiccio! Oh, non veniamo, contagiate il mondo, contagiate! Sì! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info